Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Furto nelle campagne di cartoceto, rubati centinaia di pannelli fotovoltaici I carabinieri fermano un uomo che era evaso dai domiciliari A casa gli trovano tutto l'occorrente per mettere a segno rapine Ecco i giochi vietati ai bambini perché troppo pericolosi appena installati Sono in attesa di manutenzione perché giudicati poco sicuri per i più piccoli Domani sera su Fanno TV, ultima puntata in diretta di Missione Salute Si parlerà di occhi e problemi legati alla vista Fine settimana con la festa del fagiano e della fragola L'appuntamento che si svolge ogni anno a Fenile Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Telegiornale che si apre questa sera con l'incidente mortale Che è accaduto questa mattina intorno alle 5.20 Lungo la strada provinciale 39 tra Tavuglia e Gradara Un trentenne del posto, Mauro Sandroni ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente Con la sua moto Suzuki contro una Fiat strada condotta da un trentenne di Urbino Per Sandroni, scaraventato sull'asfalto Purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo I rilievi di legge sono stati affidati alla polizia stradale di Pesaro Un furto, adesso andiamo a Cartoceto Un furto, un furto nelle campagne di Cartoceto È stato messo a segno nella notte fra domenica e lunedì Alcune persone hanno trafugato Pensate, circa mille pannelli solari Provocando un danno chiaramente ingente di diverse migliaia di euro È andato sul posto per noi Lino Balestra Sono circa mille i pannelli rubati nella notte tra domenica e lunedì In un campo fotovoltaico in località Cartoceto Per un valore di oltre 150.000 euro L'impianto che produce energia verde alternativa È ben protetto da sistemi di allarme e di videosorveglianza Ma questo non ha scoraggiato i malviventi Che una volta eluso l'allarme Si sono introdotti all'interno del recinto Ed hanno potuto lavorare indisturbati tutta la notte Caricandoli su un mezzo pesante Che una volta riempito Non ha consentito loro di portare via altri pannelli staccati Che sono rimasti così ammassati a terra Ora per ripristinare il tutto ci vorranno almeno due settimane Il danno però in termini economici Ci raccontano al telefono i responsabili Della ditta Watt Service di Bolzano Proprietaria dell'impianto Non è tanto il costo vivo degli stessi pannelli Che si aggira ormai intorno ai 150 euro cada uno Ma il mancato guadagno In quanto la produzione di energia alternativa del campo È di 4000 kWh al giorno Occhio e croce Il consumo medio annuale di una famiglia di 4 persone Ed il campo ora dopo il furto Produce solo il 50% del suo potenziale Cosa che tra l'altro ha consentito di scoprire il furto Visto che la ditta che gestisce la manutenzione dell'impianto Si accorta nella mattinata dell'ammanco di energia E facendo un sopraluogo Ha scoperto intere file di supporti senza pannelli Ora le immagini dell'impianto di videosorveglianza Sono al vaglio dei carabinieri di Fano Che coordinati dal capitano Alfonso Falcucci Stanno indagando sulla dinamica del furto I carabinieri hanno arrestato un foggiano Evaso dai domiciliari Sorpreso a Baia Metauro A Fano A bordo di una moto In casa l'uomo aveva Aveva un kit Il classico kit del rapinatore Una scaccia cani Una replica di una pistola beretta Diversi cellulari E un disturbatore di frequenze Per neutralizzare allarmi e chiamate di soccorso Sono solo alcuni degli oggetti Ritrovati a Fano In una casa dove è stato sorpreso Un trentenne di Foggia Sull'uomo pende un provvedimento di cattura Per chi è evaso da più di un mese Dagli arresti domiciliari Che stava scontando a Vieste Il trentenne è stato avvistato dai carabinieri In zona Baia Metauro Dove stava transitando a forte velocità Con una moto Una Honda Transalp di colore grigio Che si scoprirà Poi essere stata rubata Nel marzo 2013 a Bisceglie Scattato l'inseguimento Il centauro di risposta Ha cominciato ad impennare il mezzo Per non rendere visibile la targa Poi si è infilato nei vialetti Condominali di alcune case estive Così le forze dell'ordine Hanno continuato a cercarlo a piedi Fino a quando hanno trovato la moto Con il motore ancora caldo E nascosta in mezzo ad un cespuglio Dopodiché hanno notato una luce Trafilare dalla base della porta Di una delle case Ad aprire è stato il fuggitivo Che però ha negato Di essere proprietario del motociclo Ma una volta esibiti documenti militari Hanno scoperto le sue vere generalità Perquisita l'abitazione I carabinieri hanno rinvenuto Anche il classico kit del rapinatore Nascosto dietro un intercarpedine del bagno Il foggiano pregiudicato per reati contro il patrimonio E' stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia Cautelare in carcere In flagranza di reato per ricettazione Falsa attestazione delle proprie generalità E detenzione di arma clandestina Il trentenne giunto a Fano Una decina di giorni fa Probabilmente stava progettando rapine A mano armata Un automobilista che sbaglia a fare manovra In pieno centro Urta il contatore del gas E ne provoca la fuoriuscita Così sul posto sono dovuti intervenire I vigili del fuoco di Fano E gli operai dell'ASET Per mettere in sicurezza tutta la zona E provvedere a chiudere la fuoriuscita di gas Alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni Sulla pericolosità di alcuni giochi appena installati Vediamo E' molto poco utilizzabile Non è solo una mia opinione Manco opinione di altri genitori Che venerdì quando sono venuto a giocare con i miei figli Erano tutti abbastanza scandalizzati Perché insomma questa struttura secondo me è pericolosa E non è adatta a tutte le fasce di età Dopo anni il comune di Fano Ha deciso di investire nelle aree verdi della città Ma secondo alcune famiglie I giochi installati da circa due settimane Nei parchi del Poderino, del Vallato e a Centinarola Non garantiscono la sicurezza dei bambini Tant'è che lo scorso fine settimana Sono stati transennati con un nastro segnalatore bianco e rosso Dove è stato affisso un foglio con su scritto Non usare, non toccare, pericolo Queste foto ad esempio sono state scattate nei giorni scorsi Nel campetto del Poderino Dove il nastro è già stato rimosso Al Vallato invece c'è ancora E come ha scritto questo genitore su Facebook I giochi sono senza senso Non sono divertenti E non c'è nessuna barriera I genitori devono stare in allerta per tutto il tempo Pregando che il proprio figlio non si faccia male Anche se qualche bambino è già caduto da un metro di altezza È pericoloso in quanto, facciamo l'esempio dello scivolo Non ci sono sostegni laterali Quindi uno prova a scivolare Ammesso che ci riesca perché secondo me non ha una logica Diciamo di utilizzo molto seria E rischia di cadere Facciamo invece l'esempio di questo gioco Un bambino sale e a questo punto? A questo punto sinceramente può decidere se cadere o da una parte o dall'altra Perché di qua non c'è niente Dall'altra parte si dovrebbe aggrapparsi a quella struttura lì Che con la forza di centrifuga tra l'altro rischia di scaraventare la terra C'è anche una struttura per il climbing Che è normalissima nei giochi per i bambini Solo che tutte queste strutture di solito hanno per terra Una protezione per che tutti sca le cadute Quindi gomma tipo San Cristoforo ad esempio Oppure vengono installate in spiaggia Per cui uno cade e non si fa male perché c'è la sabbia che tu dice Qui non c'è niente, se cade si fa male perché c'è Qui addirittura ci sono sotto delle basi di cemento E con attorno nessun gioco che sia adatto per i bambini dai 2 ai 6 anni E' adatto solo e esclusivamente forse a bambini da 10 anni in su Senza comunque protezioni per tutti dalla caduta Su questo argomento abbiamo contattato il comune di Fano Ci hanno spiegato che l'ufficio tecnico ha provveduto a riqualificare le aree Sostituendo alcuni giochi perché nel tempo si erano usurati E hanno scelto strutture che potessero rispondere alle esigenze di bambini dai 7 anni in su In quanto in tutto il territorio comunale non ci sono punti di incontro per questa fascia di età Infatti sia il vallato che a Centinarola si legge in una nota Sono presenti aree attigue con strutture per i piccini E in altri casi a breve saranno installate strutture per bimbi di età compresa Fra i 3 e i 6 anni Hanno chiarito anche il fatto che i giochi sono transennati perché i lavori non sono ancora terminati A breve il comune provvederà a posizionare la cartellonistica con le norme per l'utilizzo adeguato del gioco E poi in un secondo momento valuterà se posare anche una pavimentazione antitrauma Che pur non essendo obbligatoria per legge servirebbe di certo a garantire la sicurezza delle strutture ludiche Andiamo avanti con il giornale Mercoledì 1 giugno alle ore 17 nella piazzetta del centro commerciale di Sant'Orso Verrà presentato alla cittadinanza il progetto Sant'Orso misura di bambino Nell'ambito del programma di interventi Fano Cresce Attivato dall'amministrazione comunale Saranno presenti i sindaco Serri, gli assessori comunali, gli alunni della scuola primaria Montesi Che hanno collaborato alla redazione degli elaborati progettuali Domani sera invece torna il programma di Fano TV Missione Salute Si chiude domani sera il primo ciclo di puntate Poi questa importante trasmissione tra l'altro che sta avendo e ha avuto un grande successo di pubblico Tornerà con l'inizio dell'autunno Ebbene domani sera affronteremo con i nostri specialisti un argomento interessante, molto importante La vista, gli occhi Per l'ultima puntata di Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'Uso Saranno i medici del reparto di oculistica a mostrarci quello che avviene nei presidi di Fano, Pesaro e Muraglia Le nuove tecniche chirurgiche e come sono stati capaci in 24 mesi di abbattere le liste d'attesa per gli interventi di cataratta Nella puntata di Missione Salute di domani parleremo della chirurgia di eccellenza che si fa su Marche Nord Dei volumi di questa chirurgia, della chirurgia vitroretinica, della chirurgia dei trapianti di cornea E di tutta la chirurgia diciamo complessivamente Inoltre vorrei illustrare come Come il nostro assetto all'interno di Marche Nord in ambito oculistico Oltre anche a illustrare alcuni percorsi collegati alla retinopatia diabetica Come sempre nella seconda parte della puntata voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni Direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate Chiamando Fano TV allo 0721 861433 dalle 20.45 in poi Dopo il Tg, occhio alla notizia Si avvicina l'estate, riprendono le manifestazioni in giro per i quartieri E da giovedì ne arriva un'altra che sta avendo e che ogni anno ha tanto successo di pubblico La festa del fagiano e della fragola E' una tradizione da sempre molto sentita nel territorio del comprensore fanese Dopo tanti anni di pausa la festa del fagiano e della fragola si appresta a far rivivere la sua quarta edizione L'evento infatti ripreso nel 2013 quest'anno si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno al Parco di Fenile Una giornata in più in occasione della festa della Repubblica La manifestazione è promossa dall'Associazione Quattro Quarti e dalla Fondazione Cante di Montevecchio In collaborazione con la Proloco fanno un fortuna Ci crediamo, io devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e che stanno collaborando con noi La Quattro Quarti in maggior modo perché è assieme a noi E molti volontari che lavorano appunto in modo che questa festa riesca sempre nel migliore dei modi Speriamo nel tempo, mi auguro che sia una manifestazione sempre di gran successo come è stata gli altri anni Quest'anno un taglio culturale eccetera non siamo riusciti a darlo Ma per il futuro sicuramente è una manifestazione che dovrà crescere Cercheremo di allungare i giorni per il futuro e magari ci metteremo dentro anche un po' qualcosa di culturale E qualcosa sulla manifestazione agricola visto che siamo in una zona di verde eccetera Accompagnata alla festa che fanno con la metitura eccetera Con l'esplosizione di macchine, macchinari, mezzi agricoli eccetera Ma sono anche altre le novità perché una volta conclusa la pista ciclabile Trave Fenile c'è l'intenzione di aprire il parco alla cittadinanza In orari stabiliti e installare dei giochi per bambini Un chiosco con piadine e una struttura incoperto da 200 metri quadrati Intanto se il bel tempo non dovesse aiutare gli organizzatori L'evento verrà posticipato alla prossima settimana Come sempre è previsto un ricco programma e del buon cibo Gli anni scorsi sono state preparate una media di mille porzioni di fagiano In soli tre giorni di ogni edizione Oltre al normale programma dell'anno scorso si è aggiunta nella nostra associazione Il ristorante Montecucco E quindi abbiamo veramente un menù come un ristorante Questo vogliamo proprio dirlo ad alta voce Perché veramente sono carni allevate da loro E poi cucinate escluso il fagiano naturalmente Perché è un prodotto particolare Tutto il resto è di loro produzione Per gli appassionati di motori ci saranno i fuoristrada Che nel circuito transennato daranno dimostrazioni di guida per i più grandi Per i più piccini invece Giochi e laboratori a cura dell'associazione Tira e Molla Non mancheranno il motoraduno del club Dragone Saggio di danza di Taekwondo e l'intrattenimento musicale Giovedì alieteranno la serata Fango e Icarta Carbone Venerdì l'orchestra Palazzi Group Sabato l'orchestra Spettacolo Fabrizio Guidi Mentre per la giornata conclusiva ci sarà Castellina Pasi Quindi io invito tutti a venire a questa festa Perché sicuramente si divertiranno E passeranno delle ottime ore nel parco del Fagiano Fanno vince la parata nazionale della bandiera Con il gruppo storico La Pandolfaccia L'evento che si è svolto a Città della Pieve in provincia di Perugia Ha coinvolto oltre 250 figuranti provenienti da tutta Italia In questa occasione il gruppo fanese si è giudicato L'organizzazione della terza edizione della competizione Dedicata agli sbandieratori Che dunque si terrà proprio nel centro storico di Fano Il 28 maggio del 2017 Ci salutiamo adesso guardando queste fotografie Che ci ha inviato il nostro reporter di strada Guardate sono delle studentesse del liceo artistico a Pollone di Fano Che stanno decorando il sottopasso della stazione ferroviaria Grazie per averci seguito Arrivederci a domani